Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo la differenza tra le scarpe più rettive di casa Oka, ovvero le Zinal 2 e le Tecton X2. Vediamo insieme le differenze soprattutto per chi è più consigliata una e per chi è più consigliata l'altra, ma iniziamo col video. Iniziamo analizzando la suola di queste due scarpe. Per quanto riguarda la mescola è la stessa, ovvero Vibram Mega Grip. Entrambe con tecnologia Light Base, però la Zinal 2 ha anche il Traction Lug. Questo cosa vuol dire? Che la Zinal 2 va meglio su quello che è il fango. Sul fango si comporta molto meglio rispetto che la Tecton. Abbiamo poi un tipo di tassello abbastanza diverso, molto semplice, molto squadrato per quanto riguarda le Tecton X2, e invece molto più aggressivo e con una superficie d'appoggio maggiore per quanto riguarda invece le Zinal 2. Questo cosa vuol dire in soldoni? Che le Tecton X2 saranno scarpe che andranno bene su una superficie molto semplice, strade bianche, single track, poco fango, davvero il fango quasi nulla perché si scivola molto. Le Zinal 2 invece sono scarpe che vanno bene sia sui terreni dove vanno bene anche le Tecton, ma anche su terreni rocciosi e soprattutto su fango. Quindi diciamo che la Zinal 2 è in più una scarpa a 360 gradi per quanto riguarda almeno il terreno. Passiamo invece a parlare dell'intersuola, soprattutto di com'è la sensazione quando le utilizziamo. Allora, sono entrambe due scarpe molto molto reattive. La Tecton X2 però, avendo anche la piastra in carbonio, fa risparmiare molta energia ed è tendenzialmente un pochino più reattiva. Poco, eh? Diciamo che la differenza si sente poco. Si sente però quando il carbonio entra in funzione e lavora che ci dà un'ottima mano nel risparmiare energia. La Zinal 2 è una scarpa invece sia molto reattiva che però ha bisogno di tutta la nostra forza per andare a una certa velocità. Non esegnoci il carbonio, non ci fa risparmiare energia. Dove è meglio utilizzarle? Allora, diciamo che la Zinal 2 è una scarpa secondo me che va bene per gare molto molto corte, allenamenti corti, quindi 30 km, magari anche tanto dislivello, però comunque gare 30, massimo massimo 40 km. Per quanto riguarda invece le Tecton X2, con loro intersuola ci permettono di fare anche delle gare molto lunghe. Cioè con una scarpa di igiene potremmo farci anche delle gare da 60-70 km senza tanti problemi. Quindi diciamo che qua c'è un grosso spartiacque. Molta grande anche la differenza di peso. Per quanto riguarda le Zinal, 227 grammi, 252 invece per quanto riguarda le Tecton. Sono più o meno 25 grammi di differenza. Vi dirò, si sentono un pelino, nel senso che non tanto si sente pesante la Tecton, quanto si sente molto leggera la Zinal. È un parametro che so che magari ad alcuni di voi potrebbe interessare. Arriviamo invece alla Tomaya, che è una delle grandi differenze tra queste due scarpe. Sulla Zinal troviamo una Tomaya che è molto traspirante, ma praticamente una struttura inesistente. Qualsiasi cosa prendiamo dentro con le Zinal e ci facciamo male. Dà un supporto praticamente uguale a zero sui traversi. Anzi è una scarpa che, complice a un tallone anche molto molto destrutturato, ci farà scavigliare veramente molto molto facilmente. Le Tecton invece hanno una Tomaya in Matrix, molto traspirante anche lei. Secondo me è più resistente, più duratura rispetto alle Zinal. E dal canto suo ha un oltre una Tomaya che ci dà un po' di sostegno. Un puntale un pelino più rigido rispetto alle Zinal, un sostegno laterale più corposo rispetto alle Zinal e un tallone molto più classico, quindi molto più da scarpa come la intendiamo di tutti i giorni. Meno con una calzata a calzino che invece ha la Zinal. Le Tecton sono delle scarpe molto più classiche. Davvero molto classiche, con una linguetta classica, con una Tomaya molto più classica. Diciamo una scarpa come siamo abituati. Le Zinal invece sono delle scarpe ridotte veramente all'osso, con una Tomaya molto leggera, molto traspirante, una Tomaya praticamente quasi inesistente, con una calzata molto a calzino, con un tallone completamente destrutturato. E soprattutto in questo caso, non essendoci neanche una linguetta vera e propria, si sente un sacco la pressione dei lacci. Per quanto riguarda invece la possibilità di prendersi storti, in questo caso è molto importante sottolinearlo, se non si ha una buona tecnica di corsa, se non si ha una buona muscolatura, un buon appoggio, con le Zinal 2 si prendono tantissime storte. Non è una scarpa che perdona. Davvero, con questa, se siete delle persone che non hanno un'ottima tecnica di corsa, io ve la sconsiglio. Piuttosto andrei su una Tecton, che invece, avendo un po' di struttura, soprattutto sul tallone, è una scarpa che ci aiuta molto di più per quanto riguarda le storte. Ce ne fa prendere molte di meno, ci aiuta molto, anche se non siamo persone che hanno una gran tecnica di corsa. Quindi, anche qua, mi raccomando, pensate a come è la struttura della vostra caviglia e la vostra tecnica di corsa. Ma per quale atleta ha più senso prendere le Zinal 2 e per quale le Tecton X2? Allora, le Zinal 2 sono scarpe che consiglio davvero ad atleti elite, top, molto leggeri, un atleta comunque che 75 kg massimo, ma già 70, siamo lì, un atleta che ha un'ottima tecnica di corsa, che corre molto, che fa gare molto veloci e molto esplosive. La Tecton X2 invece è una scarpa un po' più per tutti, può prendere anche un atleta magari un pochino più pesante, che comunque corre veloce, non atleti che camminano, però sicuramente è un atleta un pochino più pesante anche sugli 80-85 kg, un atleta che magari non ha neanche questa grandissima struttura di tecnica di corsa, diciamo un atleta un pochino più comune, questa Tecton X2 è sicuramente più rivolta a un grande pubblico rispetto a quello che è la Zinal. Arrivati a questo punto parliamo di prezzi. La Zinal 2 viene venduta ufficiale sul sito OCA a 180€, la Tecton X2 ufficiale OCA a 220€. Ci sono 40€ di differenza e 40€ sono secondo me principalmente nell'uso dato Maya Matrix e nella parte di piastra in carbonio messa nell'intersuola. Io ve le consiglio entrambe naturalmente, sta a voi decidere quale è meglio per la vostra tecnica di corsa, il sentiero che dovete andare ad affrontare e che tipo di runner siete. Detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauramente sostitivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!